Sì, io inevitabilmente sono nato in questo paese che è l'Italia. E sai, abbiamo un patrimonio estetico, visivo, pazzesco. Io sono nato a Lecce, la capitale del barocco. Quindi immaginati quanto ovviamente tutto il mio immaginario sia stato colonizzato da questo. Per quanto io abbia cercato di tirarmene fuori, però poi dico sempre che la polvere delle strade su cui hai camminato è sempre nelle tue scarpe. Non riesci a toglierla più di tanto. E allora vedi che questa classicità, come la definisci tu e come la definiscono tante altre persone, ce l'abbiamo dentro. Guarda, è per questo che poi noi siamo così versati dal punto di vista estetico. Per questo che noi veniamo considerati un po' arbitre eleganziarum in tutto il mondo. Non abbiamo un po' questa fama. Ma perché ci viviamo dentro? Siamo attori in un palcoscenico clamoroso. Ma capisci che non è tanto un problema di memoria, quanto veramente che i nostri occhi sono pieni di questo. Quindi non è un voltarsi indietro. Io odio il voltarsi indietro. Non bisogna mai voltarsi indietro. Non serve a niente. Noi siamo conformati per guardare in avanti e per andare in avanti. Quindi non è un problema di memoria. E che queste cose qui proprio risalgono. E allora devi considerarle. Devi dire sì, sono mie. Io vengo da qui. Ci appartengo. È la mia storia. Io mi sono laureato nel 1992. La facoltà di architettura del Politecnico di Milano era solo la facoltà di architettura. Non esisteva design. Sai, Thomas Maldonado era mio professore. E mi ricordo lui era fissato con questa cosa di fare una scuola di design. Lui era stato preside di Ulm. E io non ero d'accordo. Non ero d'accordo allora e non sono d'accordo adesso. Cioè, io credo che siamo stati bravissimi a dare tanto tutta la generazione eroica, no? Dei Castiglioni, dei Rendini, eccetera. Perché erano laureati in architettura? Perché come ha codificato quel geniaccio di Ernesto Nathan Rogers? La nostra cifra italiana si consuma dal cucchiaio alla città. Ovvero, noi siamo in grado di affrontare il problema progettuale esattamente nella stessa maniera. Dalla piccola scala del cucchiaio alla grande scala della città. Io odio gli specialismi. Questo punto di vista tutto americano, no? Di dire, no, ma quello sa fare benissimo le sedie pieghevoli in colore verde salvia. Ma... Non esiste. Guarda, io nella mia piccola carriera, no? Appena venivo catalogato, a novembre quello che fa le discoteche, facevo altro. Novembre quello che fa negozi di moda, mi buttavo a fare altro. Novembre ho fatto due hotel. A novembre è bravissimo a fare gli hotel. Non ne ho più fatti. Io ho sempre cercato di spiazzare, no? Ma perché trovo... Guarda, io tante volte incontro colleghi e gli dico perché non vieni a gestire il mio studio e vado a gestire il tuo? Cioè ci vorrebbero questi scambi. Ci vorrebbe un cambio proprio di energia, no? Altrimenti a fare sempre le stesse cose. Uno muore. Abbiamo bisogno d'amore. E non è retorica, non voglio essere cisi, ma poi il vero legante fra le persone è l'amore. Io ho sempre detto... Guarda, il primo simbolo del mio studio è stato un cupido con un fucile laser. Questo perché pensavo che arco e frecce non sarebbero state abbastanza precise e sufficienti. Allora dovevo armarlo di un fucile laser per andare a colpire esattamente il centro del cuore delle persone. Io ho sempre pensato di fare spazi in cui le persone si innamorassero. Ecco perché ho sempre fatto spazi per il pubblico, io per esempio. Io non ho mai fatto spazi per il privato. Perché il privato mi sembrava costrittivo. Cioè fare dei luoghi in cui la gente non ha libero accesso, no. È la mia teorica idea architettonica di comunismo. Cioè io ho sempre fatto spazi per il pubblico. Spazi veramente dove immaginavo che la gente... Costruivo situazioni in cui dicevo qua due si innamoreranno. Io ho sempre avuto sto trip. Ma perché ti assicuro... Io sono sempre stato un po' un paladino dell'amore, no. Un cavaliere dell'amore. Io guarda, nella mia carriera ho sempre avuto donne committenti meravigliose. Ho fatto i lavori pazzeschi io per donne. E ho sempre inteso le mie azioni come quelle di un cavaliere che si mette al servizio di una regina. Cioè io credo che un uomo al servizio di una donna, quindi come musa, come ispirazione, uccide qualsiasi drago.